Raga sono le 2.13, ovviamente di sera Mi è presa una fissazione Liscio, alle 2 di notte, si fratello, si Non so come si usa Mi sorella mi ha detto che ne do una che non vale niente Gile D, proviamo Raga ma è difficilissimo, che cavolo si fa? Non vengono lisci, bravo Forse ho capito Così Così E tiro Faccio tipo così Faccio tipo così Paraggine Asia Così funziona Così soggetto Perché non vengono?